Parliamo della questione ospedale, in questi ultimi giorni ci sono state un po' di frizioni anche da parte delle opposizioni, consiglieri regionali che vogliono incatenarsi, la sua risposta qual è? Mi viene da sorridere, Mariani che ha dirottato 68 milioni di euro per il nuovo ospedale di Giulianova quando era capogruppo del PD, oggi si vuole incatenare visto che la giunta regionale ha destinato 11-12 milioni di euro per il nuovo ospedale di Giulianova, tra virgolette nuovo perché andremo a rinnovarlo completamente sia il padiglione est che il padiglione ovest, oltretutto il Mariani quando rappresentava il PD insieme ad Alfonso aveva praticamente chiuso l'ospedale facendolo diventare un punto di soccorso, noi oggi abbiamo una dignità all'interno della rete ospedaliera provinciale e siamo al pari dell'ospedale di Atria e Sant'Omero, ci viene un po' da sorridere ma ci viene anche da sorridere visto che quando i consiglieri comunali di opposizione oggi vogliono fare una mobilitazione popolare, dove erano quando D'Alfonso è venuto a Giulianova a chiuderlo? Perché nel piano che presentò l'allora governatore della regione Abruzzo, a Giulianova non era previsto neanche l'ospedale di base, dove erano? Fanno un po' sorridere perché parliamo solamente di due anni fa, non di vent'anni fa, quindi comprendete che noi in maniera seria non prendiamo in giro i cittadini, invece c'è qualcuno che quando fa comodo prende in giro i cittadini e non racconta le cose come stanno. E' soddisfatto di questa bozza che poi vedremo come andrà avanti di questo riordine della rete ospedaliera? Ma io sulla bozza non parlo, nel senso che parlando di quello che l'ASL e la regione Abruzzo hanno messo nero su bianco, di quello che verrà fatto all'interno dell'ospedale e stanno già facendo perché abbiamo già inaugurato tre reparti e ne andremo a inaugurare altri due, io ho messo nero su bianco, ai miei cittadini quello che faccio, il resto al centro-sinistra fa solamente chiacchiere e i loro risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi abbiamo subito per 15 anni dettagli incredibili, negli ultimi 10 assolutamente lo spedale di Gionoma era stato rilegato a periferia dell'impero e negli ultimi 5 a periferia dell'impero di D'Alfonso e oggi il capogruppo del gruppo che rappresentava il PD all'interno del Consiglio regionale si vuole incatenare a Gionoma? Ci venisse a incatenarsi, andremo lì con tanti cittadini a domandargli per quale motivo era più importante fare un ospedale unico a Teramo e chiudere l'ospedale di Giulianova, invece noi oggi abbiamo fatto qualcosa di più interessante, cioè creare una rete con tre ospedali base e un ospedale hub sulla città capoluoco. Qui si fa sanità vera, qui si fanno gli interessi dei cittadini e di certo non si fa gli interessi di qualcun altro.